Ma sicuramente per alcuni paesi siamo alla quarta ondata, mi pare abbastanza evidente parlare di Russia, parlare di Romania, parlare di Bulgaria, ma la stessa Albania, molti paesi dell'est Europa che hanno vaccinato molto poco si trovano ad affrontare la quarta ondata come è stata del resto la seconda, per loro non c'è una grande differenza rispetto a quello che avveniva nell'ottobre-novembre del 2020 e questo è evidentemente una situazione particolare. Per quanto riguarda il nostro paese, secondo me dobbiamo avere tanta cautela, però la situazione non è di un'emergenza. Abbiamo alcune regioni che hanno visto aumentare in maniera importante, soprattutto nel nord-est, anche evidentemente per alcuni atteggiamenti non vaccinisti, penso alla città di Trieste, penso a alcune province del Veneto, penso all'Alto Adige dove le cose stanno tornando ad andare bene. In altre regioni la situazione è più tranquilla perché hanno vaccinato di più, però comunque il mese di novembre sarà un mese determinante. Pensavamo che fosse il mese di ottobre, nella realtà sta diventando determinante il mese di novembre, anche perché guardi che questo virus ha una correlazione abbastanza diretta col clima, quindi noi abbiamo avuto il freddo che è arrivato un po' più avanti e inevitabilmente il freddo che vuol dire stare di più al chiuso e meno aria aperta, porta a una moltiplicazione dei contagi. Ma allora però prov-